buongiorno amici ben ritrovati su russian watches review l'unico canale youtube dedicato agli orologi russi tempo fa avevo avviato un sondaggio sulla mia pagina instagram in cui chiedevo un parere in merito agli orologi russi che riportano sul quadrante dei simboli palesemente americani ma il discorso si può riferire anche a tutto l'occidente bene le vostre risposte forse anche con l'aiuto della mia domanda un po provocatoria hanno portato ad una drastica bocciatura di queste casistiche eppure sta di fatto che alcuni modelli di orologi russi con riferimenti occidentali sono particolarmente ricercati e apprezzati dai collezionisti oggi voglio parlarvi del vostro coca cola avete capito bene si tratta proprio del marchio di coca cola questo vostro rientra nel grande tema degli orologi russi aziendali ed era stato realizzato proprio per la coca cola più precisamente per una divisione russa dell'azienda partiamo sempre da qualche dato tecnico si tratta di un comandischi quindi cassa cromata da 39 millimetri circa corona vite in questo caso opposta a ore 2 fondello con anello a vite e movimento 2416b automatico fin qui non ci piove riguardo il periodo di produzione possiamo vedere come non sia riportata alcuna dicitura di fabbricazione quindi possiamo collocarlo nel periodo di transizione successivo alla dissoluzione dell'unione sovietica quindi prima metà degli anni 90 ciò che mi ha interessato al momento dell'acquisto naturalmente è stato il quadrante di questo orologio fino ad ora lo avevo visto solamente nelle pagine virtuali del cccp forum vi ho già parlato qualche volta di questo forum trovate il link in descrizione visitatelo insomma sul forum avevo visto delle foto di questo orologio più precisamente di un esemplare molto virato con il quadrante già abbastanza scolorito e anche con i numeri 2 4 8 e 10 molto imprecisi perché avevano già subito un po di processo di viraggio quando ho visto l'esemplare che state vedendo nelle immagini che tutto sommato è in ottime condizioni mi sono fiondato a comprarlo fiondato per modo di dire perché è bastato qualche click è una carta di credito però per parlare in termini più concreti cos'è che mi è piaciuto proprio tanto la scritta coca cola naturalmente se ricordate bene non molto tempo fa ho presentato tre orologi aziendali a tema petrolifero fra questi c'era un vostro che presentava una scritta rossa che era stata ripristinata perché il colore rosso è ormai conosciuto come quello che va via per primo in caso di viraggio insomma quando un quadrante vostro vira per vecchiaia per condizioni di conservazione particolari eccetera succede che il colore rosso sparisce quasi del tutto allora io con questo coca cola voglio innanzitutto godermi un orologio in condizioni ottime in secondo luogo provare a conservarlo per il meglio mantenendo i suoi colori sempre così come li state vedendo adesso con particolare attenzione al colore rosso spero di conservarlo veramente per più tempo possibile fatta questa disamina sulla scritta coca cola che reputo fighissima pur non essendo affatto un fan della bevanda forse ormai viviamo bombardati da questo marchio che in me magari esercita anche fascino attraverso le opere di andy war di mario schifano eccetera magari più con quello che con veicoli moderni pubblicitari però andiamo avanti nella descrizione lo vedete quel ritratto un po malefico che è il fulcro di questo quadrante è impossibile non vederlo con quello sguardo un po maligno che ti punta proprio sul cccp forum leggevo che pare si tratti di un dirigente aziendale della divisione coca cola russa però non è dato sapere di più a volte anche questo contribuisce ad aumentare il fascino di certe cose nel complesso quindi si tratta di un orologio aziendale abbastanza conosciuto fra i collezionisti se non altro per la sua fama e particolarità di omaggiare in qualche modo un'azienda non solo occidentale ma un vero e proprio simbolo dell'occidente e anche del capitalismo diciamo che non fa mai male ora tornando al discorso dell'introduzione devo dire che questi orologi mi viene da pensare ad esempio anche al vostro desert shield di cui prima o poi vi parlerò insomma tutti questi casi dividono in due il mondo dei collezionisti ma forse anche in tre ci sono collezionisti molto radicati nel periodo pre anni 80 che non concepiscono affatto nessun tipo di collaborazione che nel tempo si possa essere instaurata fra produttori di orologi e aziende occidentali per la commissione e la produzione di orologi aziendali tra questi c'è chi vede in maniera ostica anche le produzioni dedicate ai mercati esteri per esempio al mercato civile poi c'è chi apprezza particolarmente queste iniziative imprenditoriali e io sono fra questi a me piace tutto ciò che alla fine risulta essere anche più recente collocabile quindi in periodi in cui certe prese di posizione da parte di oriente occidente erano anche un pochino superate però mai fino in fondo insomma per me studiare casi come questo è un bello stimolo e lo apprezzo e poi se coca cola era entrata nel mercato russo se qualcuno aveva fatto produrre questi orologi perché dovrebbe diventare un mio problema oggi anzi io da tutta questa situazione voglio coglierne le opportunità più che le criticità poi c'è chi colleziona semplicemente tutto e allora un vostro coca cola è comunque qualcosa che non si vede tutti i giorni tanto vale prenderlo e metterlo in collezione voi che cosa ne pensate dopo queste brevi argomentazioni per caso avete cambiato idea rispetto al sondaggio iniziale mettereste mai in collezione questo orologio ditemelo nei commenti che magari facciamo un secondo round dello stesso sondaggio per oggi ragazzi è tutto in coda al video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like a questo e agli altri video che vi sono piaciuti ma anche di iscrivervi al gruppo telegram e seguirmi su instagram per partecipare fra le altre cose anche ai sondaggi come quello dell'apertura di questo video grazie ancora per aver seguito fino alla fine il mio video il nostro appuntamento invece è rinnovato come sempre ogni giovedì qualche volta anche di lunedì ma sempre su questo canale è sempre sotto voce ciao